Partiti Exed Light Titus Time Simeri Creek E in vantaggio Raffael Caffè attaccato all'esterno Da Carla Busutil A centropista Lucky Fantasy Seguono Donna Du Exed Light E in leggero vantaggio Raffael Caffè attaccato a centropista Da Lucky Fantasy Passa Lucky Fantasy Davanti a Dancing Bon Raffael Caffè e Carla Busutil Il problema che ti mette paura Che corre a vendere Qualche problema O fare moragia O il zoppo Il problema è E' questo Novo